Calcio di Lettanti, domenica 25 settembre 2022, campo sportivo comunale di Ramiola. Seconda categoria, Folgore Fornovo, Football Club 70, Sant'Ilario 3-0. Dopo due sconfitte, i nero-arancio di Andrea Bigori assaporano il gusto della vittoria contro il Football Club 70, determinato dall'espulsione dell'estremo difensore degli Azzurri Bianco per un fallo sull'ultimo uomo. Reti di Utini, Colacino e Menozzi. Fiducioso per il proseguo del campionato, il mista della Folgore, Andrea Bigori. Due sconfitte, adesso finalmente una vittoria, è cambiato qualcosa nella squadra? Ma diciamo che sì, veniamo da due sconfitte ed in settimana abbiamo fatto un attimo quadrato e diciamo che queste due partite qua c'era mancato molto l'agonismo, c'era mancato un po' di cattiveria cosa che oggi perlomeno si è visto ed era quello che mi aspettavo. Speravo anche di vincere perché comunque i punti in qualche modo dovevano arrivare sono arrivati da una prestazione convincente, quindi doppio obiettivo raggiunto. L'ambizione deve essere sempre quella di far bene e cercare di fare meglio delle nostre possibilità. È ovvio che con l'arrivo di 3 o 4 giocatori nuovi, gli equilibri in uno spogliatoio che cambiano e comunque per quello che ho visto nei risultati e delle squadre che sono quest'anno nel nostro girone sicuramente non è un campionato semplice, non basta pensare di essere bravi ma bisogna essere molto più bravi degli altri perché le squadre che incontriamo sicuramente ci giocheranno contro con non la folgore della salvezza ma una folgore che è arrivata ai play-off in finale l'anno scorso, quindi è tutto molto più difficile. Per Agostino Rabetti invece, mister del Sant'Ilario, il rammarico di una partita ha deciso anzitempo. Allora, terza di campionato, una vittoria, un pareggio, oggi una sconfitta, una sconfitta determinata dall'espulsione? Penso di sì, eravamo partiti molto bene creando un'occasione incredibile che purtroppo abbiamo sbagliato dopodiché siamo stati molto ingenui a regalare un'espulsione quando mancava ancora troppo tempo alla fine della partita in quel momento ci siamo disuniti sbagliando e loro hanno fatto l'1-0 poi dopo il secondo tempo hanno giustamente vinto la partita. Il nostro programma è sempre quello di crescere, l'anno scorso abbiamo fatto 40 punti e cercheremo di farne qualcuno in più. La squadra è buona, peccato per questo passo falso, però siamo sicuri che possiamo fare bene. In promozione vince la futura per 5-2 sul campo del Carpaneto Chero 1922, reti di Pappalardo e doppietti di Landini e del solito Bernardini. Sconfitto il Solignano sul campo dell'Alsenese per 4-2 dopo essere stato in vantaggio per 2-1 con le reti di Palumbo e Alinovi. In prima categoria pareggio in rimonta 2-2 delle terre alte Berceto con il Biancazzura di Sorbolo. Reti di Setti e Cucchi per i padroni di casa. Domenica prossima derby di Vallata tra la Capolista Compiano e la Folgore Fornovo.